Il Circolo di Legambiente di Caltanissette organizza una giornata di volontariato ed escursionismo domani 4 febbraio. Ogni anno infatti il Circolo prepara dell'iniziativa in occasione della giornata mondiale delle zone umide, ricorrenza celebrata il 2 febbraio. Una giornata che ricorda la Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, firmata nel 1971 proprio il 2 febbraio. La Convenzione di Ramsar si legge nel comunicato e lo strumento che fornisce ai 170 paesi firmatari le linee guida per la conservazione e l'uso razionale di queste aree e delle loro risorse. Ed è l'unico trattato internazionale sull'ambiente che si occupa di questi particolari ecosistemi che, oltre ad accogliere e conservare una ricca diversità biologica di piante, uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci, invertebrati, garantiscono ingenti risorse di acqua e cibo e altri servizi ecosistemici, si legge ancora. E svolgono una funzione fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici. Sarà un weekend intenso per il Circo L'Ognisteno di Rega Ambiente che domenica farà conoscere un altro artista locale a chi parteciperà all'iniziativa Allora d'Arte. Si incontreranno infatti in via Fraggio Ratana alle ore 11.30. Per la giornata mondiale delle zone umide insieme a studenti e a volontari andremo a ripulire un tratto di fiume salito. L'appuntamento è alle ore 9, qua davanti all'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta. L'importanza della giornata è dovuta al fatto che le zone umide sono zone molto importanti per la biodiversità, per la cattura dell'anidride carbonica e quindi vanno preservate. Sarà una giornata di volontariato. Domenica invece faremo un altro appuntamento dell'Ora d'Arte, l'abbiamo chiamata, un appuntamento incognito, le persone non sanno dove andiamo, per andare a conoscere artisti e artigiani della città. Verranno coinvolti dunque anche gli studenti. Sabato 4 febbraio, Lega Ambiente Caltanissette infatti realizza l'iniziativa in collaborazione con la Dasti e l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta. Domani, questo sabato, andremo a visionare lo stato in cui si trova il fiume Salito, andremo a ripulire perché abbiamo già visionato, ci sono tratti sotto passaggi in cui purtroppo le persone buttano rifiuti in gombrandi e non, quindi andremo un po' a ripulire, ma servirà anche per sensibilizzare i ragazzi, quindi le giovani generazioni, a capire dell'importanza della biodiversità, delle zone umide che vengono utilizzate dalla fauna migratoria e non solo.